A 10.000 del capodanno di piazza c'era anche il sindaco di Mantua Nicola Sodano sul palco per gli auguri con l'assessore ai grandi eventi Enzo Tonghini. Il primo cittadino si è dichiarato soddisfatto della serata, il suo primo San Silvestro da sindaco. Una grande serata per Mantua, piazza, stracolma, gente dappertutto. Che sia una serata che possa essere di buon auspicio per il futuro di Mantua. Un gran 2011 a tutti. Promossa pieni voti dal sindaco Enrico Ruggeri, protagonista di un concerto coinvolgente. Ruggeri si è presentato con un repertorio veramente eccezionale, proprio per questo è stato motivo di richiamo da parte di gente che è arrivata da tutta Italia. In effetti volevamo fare un evento nazionale ed evento nazionale è stato.